Sulla partita poco da dire, nel senso pochissime occasioni concesse, purtroppo era arrivato il gol del pareggio, ma una vittoria che non è meritata di più. Noi abbiamo fatto una partita, abbiamo concesso poco o niente, purtroppo abbiamo preso quel gol che magari ci ha messo un po' in difficoltà, ma siamo stati bravi a fare un'altra con un bel gol di Bernardini. Bel gol di Bernardini, bello anche il tuo. Ti era capitato nell'ultima partita in casa occasioni simili? Non eri mai riuscito magari a centrare la porta o hai cacciato troppo sul portiere? Ti sei allenato bene in settimana? Sì, è vero che mi sono capitate, ma in allenamento ci abbiamo provato con Ale Bruschi e oggi ci è servito... Gol con Dedica, quindi? Sì. No, una vittoria importante su una diretta concorrente al momento per i primi cinque posti. Entriamo in quei cinque posti che sembravano quasi utopia fino a tre settimane fa. Adesso siamo lì a lottare per stare sempre in alto. Ci serviva questa vittoria con una squadra forte come Brusaporte e adesso continuare così e pensare subito alla prossima. Vittoria col Brusaporto, ricordiamo vittoria anche col Calepina settimana scorsa. Sono 6 punti, ma facciamo quasi 12 praticamente, moralmente. Eh, quello è vero, sì. Con due squadre che sono forti, che lottano anche loro per stare lì. E niente, ci godiamo questa vittoria e pensiamo alla prossima adesso.